carattere di urgenza ed è stata determinata solo da cause di forza maggiore per garantire la sicurezza degli operatori e dell'utenza. C'è un impegno formale con la Prefettura e i sindacati da parte dell'azienda a reperire la possibile idonea sede per il CERT di Stretto 9 nel territorio di competenza e quindi sono state avviate tutte le procedure necessarie. Manifestazione di interesse, contatti con il Comune e la circoscrizione, contatti con associazioni, valutazione di spazi aziendali però tali procedure non hanno permesso di reperire una sede idonea per il CERT di Stretto 9. Quindi a questo punto è in corso la ricerca di una sede idonea nel territorio di una sede definitiva, si è cercato di contenere il disagio per la popolazione del distretto 9, aprendo presso la Casa della Salute della Fiumara un ambulatorio settimanale per la presa in carico di cittadini, in particolare affetti da gioco d'azzardo patologico e nuove dipendenze. Sono stati intensificati i contatti con Comune, associazioni, insegnanti e popolazioni in generale per favorire l'accessibilità al servizio attraverso la collaborazione con interlocutori privilegiati. Grazie per la replica Consigliere Rossetti, prego.